Ehm, ciao! Oggi siamo andati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi Siamo in una mappa che possiamo dire epocale Perché tanto tempo addietro sul mio canale Abbiamo portato la mappa diversity 1, 2, poi quella su bedrock e tutte quelle che esistevano E di recente è stata aggiornata Questa mappa che è una diversity Ma nuova in 1.20 Siamo con loco lochis, non so cosa stia scrivendo In chat, ignoriamolo E abbiamo una mappa loco In cui abbiamo 9 diverse tipologie di sfide In cui dovremo affrontarci Per ottenere la lana in modo tale da completare Monumento ma allo stesso tempo ci sfideremo Iniziamo da questo Dall'escape room Ma non so se è la più facile sinceramente Allora decidite, fai quello che vogliamo dire Va bene, scegli tu la prima poi scegli la seconda Dovrebbero esserci 9 prove Per ogni tipologia Se vuoi degli indizi C'è scritto che puoi cliccare Non vogliamo degli indizi Però io avevo pensato di Ok le chest sono chiuse Comunque se vuoi ho dei Ho del sapone liquido Ho trovato Amanda's key Io ho trovato il rose key Aspetta un attimo Perché operando queste chest Guarda vieni qui Mi diceva che serviva un e-key Questa serve la butler's chest A butler's Questa è di butler's Giustamente Giustamente Quindi devo andare nella stanza di Io di rose Io di Amanda Qua Amanda Nico vieni qua Ma io voglio rose Poi mettiamo Ma rose non c'è Loco non c'è per davvero rose Non c'è rose Dove va andata? Non so Ma qui non c'è rose Vorrei un attimino capire Dove la stanza Sistema il computer Compra Aspetta il computer Il rug Il tappeto Al tappeto Compra un tappeto viola Per la stanza Allora aspetta un attimo Compra il ticket Per il creeper chaos Come si è giusto Un computer 18 18 c'è scritto Vabbè lasciamo stare la stanza Mi aiuti a trovare la stanza di rose Che ti giuro non esiste In questo mondo Eh vabbè C'è una stanza Dai Io entro in quella di George Rose Rose dorme con George Lo sapevo C'è una blaze rod Eh io lo sapevo Eh loro dormono insieme C'è una pozione di veleno Se la vuoi utilizzare No grazie Sto bene così Allora Diamo un'occhiata Tutte le c'è No che pieno Dice Sono scosto Glowson potrebbe servire E anche Redstone Potrebbe servire E anche Gunpowder Qualcosa richiede delle pozioni Per forza Ecco Cos'hai trovato di bello Ho trovato la chiave di Battlers Battlers dove è chiaro L'avevo visto prima Era lento Guardami Nico sopra i te Ciao Ci sei arrivato Troppami quella chiave Cos'è arrivato lì sopra Ci sono tantissimi orchidei blu Non so perché ti giuro No quelle non servono No Tranquillo Battlers room Blutters Battlers Ah una chiave Alla chiave di The spare bedroom Io non capisco perché Queste hanno le chiavi degli altri 42 l'hai già trovato come numero No non ho scritto Loco sta dando i numeri in chat E poi ci sono dei tesori nascosti Penso che dobbiamo fare una combinazione Di non so che cosa Anche l'altra chest Si era vuota l'altra chest Ok Ho la chiave di The spare bedroom Dove le spare E non so Spare bedroom Eccoci qua Cosa c'è una spare bedroom? Un piccone di diamante Che può spaccare il lapislazuli Della glowstone Però qua c'è dell'apislazuli L'ho visto prima Eccolo qua Guarda E chi c'è scritto lì? The jump Oh the jump from freedom Dobbiamo fare una pozione di jump boost Ecco Provo a mettere se funziona La zampa Vediamo se funziona Lo metto tipo qui Ah awkward potion E l'avevo detto E tu non mi ascolti E fai così Poi anche così Per vedere se questa è awkward Se funziona Vuol dire che erano tutte queste awkward Se non funziona Vuol dire che solo questa era awkward Attenzione Attenzione Abbiamo una pozione di jump boost Quanto vuole queste non lo erano Vabbè Poco importa Benissimo Ora la facciamo anche splash E poi praticamente abbiamo finito Questo livello Ora però C'è da aspettare giusto Che l'ultima pozione si finisca Perché almeno Poi possiamo andare avanti Ma perché? Ma perché l'hai fatto? E insomma dai Vergognati Insomma dai Io sono scappato La libertà è in fondo È molto bella E abbiamo completato Il primo Ho completato Il primo monumento Ovvero quello della Escape room E ora Andiamo a fare Quello Del Parkour Perché è verde Ci sono vari livelli Questo è il baby step Vuol dire i passi dei bimbi piccolini Ma perché mi è picchiato? Quelli che insomma sono Devono imparare a fare il parkour Infatti loco si vede che indietro Già non riesce a farlo Questo però È picchiato Non è colpa Soprattutto semplicemente che deve Apprendere un pochettino Come si svolge questa pratica di parkour Ah Entrambi dobbiamo farlo mi sa Anche tu sei caduto Cosa fai? Eh ho detto Entrambi dobbiamo farlo mi sa Sì ma quando hai fatto Ah ancora non eri caduto Sparavi che cadessi soltanto io Adesso non sbaglio più Manche una volta Va bene Ok manco io Se mi picchi Esplodi Non ti picchierei mai Se mi picchi esplodi Mi hai picchiato Va bene No divertiti Ok Non ti vedo al finish Sei arrivato alla scritta finish Di finish del level one E allora shut up È un po' difficile sto salto Eccolo qua Se torno indietro sappi che Lo citto Allora fallo con calma Fidati che è semplice L'ho fatto infatti Va bene faccio il meglio per entrambi Sei proprio simbatico Cioè per raggiungere il livello 2 È un pericurre Arrivaci tu che non c'è il ribo A little village A little village Vuoi dire che un village A little Quindi a piccol Così torna indietro Cos'è Redondo del parkour La set level Come reset Perché esatto Dobbiamo fare qualcosa Dobbiamo E co vieni qua subito Ma c'è un pozzo Dove ti puoi buttare Vieni Quattro detto E noi No al pozzo Ah Guarda che devi farlo così Ecco qua Vedi tutto è semplice Bravo Eh molto molto semplice Guarda che io Ma Ciao Che succede Eh qua c'è da fare un bel salto giro In questo modo qua Sì ma se c'è un pillar Non si fa il salto giro Un pillar No no un pillar non c'era Poi si va qua dentro Che c'è una chapters Dentro questa chapters Tu dirai E che c'è sta C'è sta una chest Che è bloccata E se non si va in quella casa Si Si va sicuramente qua Dove Si vede che comunque Chi non è bravo a fare il parkour Viene Allontanato E una volta qua sopra Li contiamo i punti o no Dimmi se li contiamo O che li conto io Teoricamente si Però cosa devo fare Qua c'è un blocco di smeraldo Allora uno Loco Zero Cosa devo fare Col blocco di smeraldo Ah nico sono arrivato E c'è un blocco di smeraldo Eh Eh Secondo me bisogna fare tipo così Guarda vai qua E qui apri la porta No non farlo Che mi è rimblocato qua Prova ad andare dentro Quella casa lì Quale casa Quella lì Qui Lì dentro c'è una chest L'ho vista Va bene ci vado Va bene Apri quella chest Dimmi cosa c'è in una chest Sì sono dentro io Ah cosa c'è in una chest Smeraldi Vedi vanno messi lì sopra E la chiave del vicino Ah la chiave del vicino Aspetta Dov'è che serviva Qua per forza In questa casa piccolina Secondo me Guarda qua c'è il neighborhood C'è il vicino Che c'ha Sbloccata Perché è un po' teminino Ragazzo Che c'è Guarda te Molto bello E che c'è E' bello Una pressure Perché può essere piazzata Sopro blocco di esmeraldo Ma in questo caso Il punto è chiamato a me Perché ci arrivo prima di te Ma no Ma ha fatto tutto Praticamente Sì va bene Ti ho detto io dove saltare Dai lascia stare Su Sbam e sbam Molto semplice Questo è il vero No Senti puoi arrivare A livello successivo Per favore E va bene Ci arrivo Grazie Bravo Sì Ok Bravissimo Sono nel void Siamo qua Buongiorno Dove ho messo Pressure C'è caso Cerca Cerca sull'alto Degli alberi Ma il vero Certo che siamo Mediocri Dove l'ha detto Nel titolo Nel sottotitolo Il cerchito mediocre Non l'avevo letto Dove come Alberi Salire Come Qua Alberi Qua salire alberi No Qua no salire albero No No qui effettivamente No salire albero Salire albero Io no Dobbo fare il giro Ah ho capito Salire albero con fence Puoi andare su chioma E fare Ah proprio lì dici Ho quanto Sono intelligente E io ho missato salto Devo Attendere Attendere Mi prego Attendere Attendere Grazie Ma hai fatto Parkour Sul cacao No da lì vai lì poi E no Il giro delle foglie Ah il cacao Meravigliato Caduto Chissà che sei caduto Puoi prendere la pressure La vedi Non la vedo L'ho vista Dove E qua dietro Ci arrivi a prenderla Senza che salga Sì Sono incredibile Io sono incredibile 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 Perché guarda qua c'è una stanza segreta guarda Ah era sotto sono stupido The Ascent Siamo nel ghiaccio Dove stendere qui Questo è il mio regno Sono Non dobbiamo scendere Non c'è la paura Cosa devo fare Dobbiamo salire allora Aspetta che qua c'è il salto Quello spirubiru Col ghiaccio Non è vero No no Ma dove stai andando All'esterno Non si passa all'esterno Ma dici tu E che l'ho fatto E come si fa Eh ti fa un bellissimo salto a giro Eh non so fare il salto a giro Oh è un po' difficile Questo parkour eh Io no Oh Ciao Lì devi andare È saltibile Non penso Eh penso che bisogna andar lì Ma è impossibile Sono Uno Due Tre Quattro blocchi A giro L'alternativa non c'è Allora ci provo io Per la patria Ci stavo per arrivare Era fattibile Sì era fattibile Ma ci atti anche in tu dice Oh Ramonico Ehi 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 E ora dove devo andare Devo continuare a ralampicarmi sopra quest'altura Penso proprio di sì Ma non vedo lo spot preciso In cui andare in alto Quindi Forse devo fare il giro O devo fare un salto a giro No lì non ci arrivo Ah qui devo andare forse Fatto Nico Benvenuto 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 Un attimo che qui è molto critica la situation Lasciami lo spazio Guardami Ho bisogno solo di spazio di manovra Non ho bisogno di insegnamenti Guarda Eccoci qua Adesso attento a non cadere Nico No mi si è aperto l'inventario Sono quasi in cima Guardami Nico Come tu avrei fatto questo salto Ah fatto anche io No guardare te io Ho fatto fare Ma di qua salgo o scendo Non si No di qua no mi sa Fatto Nico Come è salito quello So di qua Nico Ehi E come hai scalato la montagna Di qua dove stiamo adesso Posso essere illuminato Poi di qua Poi di qua Poi di qua Non ho capito come Ma non ho capito neanche come hai fatto a fare questo salto tu Non lo so manco io Ah da qua forse Nico sto per arrivare Io ci rinuncio Questo livello non fa per me Premi quella per la scienza Se sbagli quel salto Ci vado io in spectator No Fatto Fatto Bisogna giocare in survival comunque Beach house Spiaggia mare Spiaggia casa mare al Ok qua sembra Spiaggia casa mare al È una traduzione in cirillico Ah bello cirillico Ah qua bisogna fare il salto a giro Molto semplice Molto semplice Oh mi stai Eh ma perché Non ho fatto niente Mi devi lasciare lo spazio vitale Ho bisogno del metodo di distanza Ancora ci sono le distanziamenti sociali Devo fare un'altra cosa io No devo fare un'altra cosa Eccolo qua No quello di prima hai detto che l'hai fatto incittando Non si conta Allora stiamo così Eh scusa eh Ti diverti a cittare qua Ma basta Io sto facendo tutto con molta tranquillità Sì tu che infastidisci Eh guardami Eh no ma perché mi hai Otturpato la visuale Otturpato Scusa spasmi No è che comunque sono ricorrenti Prego È facile da prendere questo Perciò per farlo fare Appunto se tu non mi pink Basta Ha citato anche questo livello Non può vincerlo eh Mi stai picchiando L'abbiamo sentito tutti Che non può vincere questo livello In quanto In quanto citato in una modalità Non consentita dal regolamento In cui c'è scritto Only survival mode please Basta non ce la faccio Basta Fatto Sì Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ma ce l'ho arrivato Ma che stai dicendo Ma ce l'ho arrivato Ma ho fatto il salto Eh che sono tutti beh No ho fatto il salto Non diciamo cavolate per favore Senti io Faccio l'ultimo Ma l'ultimo L'ultimo Perché Hai 45 secondi Per finirlo Perché è partito Non ti è partito il timer Ho vinto Ma non è giusta questa cosa Scusa Ma neanche il mio timer è partito Va bene così Quindi abbiamo Da che parte devo andare cosa Scusa Devi andare sul tronco di Di abete Ah non è vero Mi hai mentito Non è vero È quello che deve andare Devi andare avanti C'è una strada davanti Mi hai detto una castroneria Una strada C'è una strada ho detto Dov'è la strada Sono qua io Dov'è la strada Guarda Guarda Ma se è arrivato Ma accettato Non ho accettato Guarda E' un salto Mi ha accettato Ma tu hai accettato Se mi butti giù Vieni disconosciuto Sai per far cadere Anche tu Anche tu Muoviti Ti ho detto che non c'è spazio Per due persone In questo mondo Ok Spazio solo per un vincitore No 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 Mi stai picchiando Ma io non ti ho picchiato Hai fatto tutto da solo Non ti ho colpito Io ho corso Io ho corso Perché io non ti ho colpito Io non ti ho colpito Stiamo dicendo delle cavolate Adesso cadi come un pagliaccio Stiamo dicendo E abbiamo così la lana Del colore Parkour E così abbiamo due letti In realtà tre Perché anche il tutorial Era il verde scuro Questo qua La lana del colore Parkour No vabbè Parkour è un colore Senti mi hai stancato Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Abbiamo altre sfide Da affrontare Tra cui labirinti Tra bottoni Puzzle Dropper Trivia Fatemi sapere se volete una seconda parte Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Ciao Buon anno a tutti E felice Anno Nuovo Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani